Giovedì 8 giugno ci troviamo a Milano per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Si parla del futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Circa 400 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante le aziende che hanno potuto raccontare anche le novità presenti sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Bisogna trovare la capacità di costituire un team interdisciplinare in cui l'architetto si svesta dal ruolo di tutologo che ha avuto fino a qualche anno fa e rivesta un po' il ruolo di chef psicologo, quindi andare a combinare quella che è la ricetta che poi in teoria dovrebbe costituire un buon progetto. In questo il supporto di ingegneri è fondamentale. È andata molto bene perché abbiamo riscontrato oltre che una grande attenzione durante la presentazione poi una grande manifestazione di interesse da parte di tutti i professionisti intervenuti anche per casi applicativi proprio pratici ed immediati che hanno sotto mano e che possono risolvere ed approcciare con la nostra tecnologia. È una tappa importante, è sempre molto interessante partecipare a questi eventi perché comunque la formazione e l'aggiornamento professionale sono un po' alla base delle nuove sfide del futuro, quindi noi proponiamo dei prodotti nuovi e siamo qui proprio per questo, per incontrare architetti, progettisti che abbiano voglia di vedere delle novità, ispirarsi a delle nuove soluzioni per le loro realizzazioni future. Sta andando assolutamente molto bene, il format è ormai un format secondo me molto consolidato a cui noi partecipiamo con estremo piacere soprattutto per il grande riscontro che abbiamo tutte le volte, oggi più che mai. Abbiamo qua una serie di persone che interessate sia ai nostri materiali per esterni e allo stesso tempo persone interessate ai nostri materiali per interni, quindi la nostra collezione di HPL laminati ad alta pressione. Sta andando tutto bene, l'officina della sera è grata dell'organizzazione di InfoProgetto, averci creato questa possibilità di interfacciarsi con i progettisti in quanto noi oltre ai sistemi per tetti ventilati produciamo linee vita e quindi cerchiamo di orientare anche i progettisti all'utilizzo dei nostri sistemi per la sicurezza nelle coperture. Molto bene, devo dire grande interesse, una partecipazione molto attenta in aula e quindi penso che il mercato si stia riprendendo perché ho visto comunque persone molto interessate ai prodotti che stiamo presentando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.